È stata un'esperienza molto positiva, molto bella con i ragazzi. Io ringrazio l'associazione On The Road per quello che stanno facendo e per quello che faranno e per averci dato anche la possibilità di lavorare con questi ragazzi che sono stati veramente bravi, non credevo, molto attivi, hanno partecipato seriamente, ci hanno creduto e ci hanno dato molta soddisfazione. Quindi complimenti all'associazione, complimenti ai ragazzi, complimenti all'amministrazione comunale e grazie anche ai miei ragazzi della Polizia Locale che sono stati veramente bravi. Mi chiamo Giuseppe, ho 17 anni, sono qui della Val Chiavenna, ho abito a Samolaco e ho voluto fare questo progetto On The Road, mi sembrava una bella iniziativa e infatti alla fine è stata una bella iniziativa, ci siamo trovati tutti quei ragazzi, abbiamo fatto molte amicizie, usciamo anche ogni tanto da soli, quindi si è creato un bel gruppo e comunque ci siamo formati a girare con le istituzioni. Mi è molto piaciuto il fatto che noi siamo riusciti a dare una mano all'altra gente anche senza fare grandi cose, però loro l'hanno apprezzato. Non avrei mai pensato da come ero prima, da adesso sono cambiato molto. Anche l'esperienza con la Polizia Locale devo dire che mi è piaciuta molto. Non mi piaceva stare alle regole di niente e di nessuno, cercherò da qui in poi a dare consigli al prossimo. Abbiamo voluto innestare il progetto Ragazzi On The Road nella beatificazione di Suor Maria Laura perché lei credeva molto nei giovani, le ha saputi amare e ha dato la vita per loro, quindi da lì il modo di legare il progetto per dare un segno forte e tangibile verso i giovani che Suor Maria Laura amava. La legalità era la prima cosa che Suor Maria Laura credeva e quindi abbiamo voluto proprio partire da lì. Com'è andata a distanza di tre settimane? Le tre settimane sono volate. I ragazzi sono molto contenti, sono stati entusiasti di questo progetto. Abbiamo avuto anche dei riscontri da parte dei genitori che premiano il progetto che il Comune ha aderito. Abbiamo visto proprio l'esperienza di un ragazzo che ha avuto proprio un cambiamento radicale nel giro di tre settimane e quindi direi che il progetto è valido e lo consiglio anche per gli altri comuni della terra provincia. Ciao, io sono Andrea. E io sono Francesca. Oggi abbiamo appena finito le nostre tre fine settimana di progetto Ragazzi On The Road. Abbiamo iniziato tre settimane fa con la beatificazione di Suor Maria Laura. Abbiamo poi assistito alla simulazione di un incidente in cui abbiamo visto collaborare la protezione civile, la polizia locale, la Croce Rossa e i vigili del fuoco per poi passare quest'ultimo weekend in particolar modo con la polizia locale sulle strade e girando due piccoli cortometraggi. E poi con la Croce Rossa abbiamo fatto il corso per imparare a usare il defibrillatore che potrà sempre essere utile nella vita. E insieme a questo anche a fare, ad esempio, il massaggio cardiaco, la manovra di disostruzione. Sono stata contenta di aver partecipato a questo progetto e credo che comunque mi abbia insegnato molto anche ad avere un senso civico più sviluppato. Durante questa esperienza mi è piaciuto molto quando siamo andati con la Croce Rossa e ci hanno illustrato come fare il massaggio cardiaco, come utilizzare il defibrillatore e la manovra di Eimlich. E in generale credo che grazie a questa esperienza sono riuscita a capire come le istituzioni si rendano utili tutti i giorni con il loro lavoro e soprattutto l'importanza appunto di essere un buon cittadino. Mi è piaciuto molto e secondo me è un'esperienza molto bella e che ti fa crescere. Questo progetto credo che lo continuerò come staff e lo consiglio. Beh, io ho fatto il progetto tre anni fa come ragazza e ho vissuto tantissime esperienze molto importanti che hanno segnato anche il mio pensiero per quanto riguarda quello che facciamo qui al progetto. Oggi faccio parte dello staff e credo che questo progetto sia molto importante perché ti dà tanta consapevolezza.